S'indaga sui due italiani e un canadese sequestrati ieri in Libia da un gruppo armato e i rapiti sono dipendenti della società Conicos di Mondovì in provincia di Cuneo impegnati nei lavori di manutenzione dell'aeroporto di Gad nel sud del paese vicino al confine con l'Algeria, una zona che dovrebbe essere sotto il controllo dell'ONU Non collabora con gli inquirenti, l'afgano catturato a New York dopo una sparatoria, il 28enne è accusato dell'attentato della Grande Mela e per gli ordini rinvenuti nel New Jersey L'uomo è stato ferito dopo una sparatoria con gli agenti Non ci renderemo la paura, dice il presidente Obama, mentre Trump attacca, visto avevo ragione io e Hillary replica la sua retorica, aiuta i terroristi E Renzi invece attacca la politica europea al summit sui migranti e rifugiati che si è aperto ieri all'ONU Per il momento, dice dall'Europa da Juncker, solo parole, l'Italia farà da sola E in Germania, dopo la batosta elettorale dei cristiano democratici a Berlino, la cancelliera Merkel fa un passo indietro e dice Non si ripeterà l'afflusso del 2015 Il governo studia i conti della prossima legge di stabilità in un quadro dell'economia italiana che appare sempre più rallentato Lo confermano i dati dell'Inps sul lavoro Al boom dell'utilizzo dei voucher fa da contraltare la netta flessione dei contratti stabili Sia rispetto ai primi sette mesi del 2015 che allo stesso periodo del 2014 Quando non esistevano gli incentivi presenti oggi 7.31, buongiorno, benvenuti al telegiornale del mattino Allora, come vi dicevamo, si seguono fondamentalmente due piste Quelle del terrorismo internazionale, ma anche quello della banda di Predoni Per cercare di capire chi abbia rapito i due tecnici italiani E quello italo-canadese ieri all'alba in Libia Ma c'è anche chi mette in relazione questo rapimento con la presenza invece di militari sempre italiani In Libia da ormai qualche settimana Legando in qualche modo le sorti dei nostri tecnici a quella che sarebbe una guerra Non dichiarate Sono Bruno Cacace, 56 anni, residente a bordo San Dalmazzo, nel Cuneese E Danilo Calonego, 66 anni, originario di Peron, in provincia di Belluno I due tecnici rapiti ieri mattina a Gat, nel sud della Libia, al confine con l'Algeria Assieme ad un collega italo-canadese Tutti e tre sarebbero stati catturati da un gruppo armato e mascherato Che ha aperto il fuoco e poi bloccato l'auto sulla quale viaggiavano per andare sul posto di lavoro Vicino all'aeroporto di Gat L'autista che accompagnava i tre tecnici è stato trovato con le mani legate in una zona desertica I due italiani e il canadese lavorano per la Conicos, una società di Mondovì Che si sta occupando della manutenzione dell'aeroporto di Gat Città sotto controllo del governo di unità nazionale di Tripoli Considerata non particolarmente pericolosa e abitata da tribù Tuareg Più favorevoli ad appoggiare a Saragi Le fonti locale propendono più per la pista del sequestro a scopo di ricatto piuttosto che per quella terroristica Ma è anche vero che l'intera zona non può dirsi immune da infiltrazione del califato Che avrebbe trovato riparo dai bombardamenti americani e dal passaggio di cellule islamiste legate ad Al-Qaeda La Conicos opera da decenni in Libia con commesse di ingegneria civile E Cacace e Calonego conoscono molto bene il paese Calonego era arrivato in Libia nel 1979 ed era già scampato a due imboscate Che lui stesso aveva deciso di raccontare in un libro che stava finendo di scrivere Cacace vive nel paese da 15 anni La Farnesina sta lavorando con Massimo Riservo su una vicenda che si presenta estremamente delicata Il Copasir oggi riunisce l'ufficio di presidenza Mentre la procura di Roma ha aperto un'inchiesta per il sequestro di persona con finalità di terrorismo Poco fa il sindaco di Gatte ha definito senza precedenti quello che è accaduto ieri E è escluso che sia opera di estremisti islamici Andiamo invece a New York negli Stati Uniti dove è stato catturato in meno di 48 ore Quello che si presume sia l'attentatore appunto di New York Che però probabilmente non ha agito da solo Almeno è quello che pensano gli inquirenti Lui al momento non risponde alle domande Non sta collaborando Ma non è detto che comunque le indagini abbiano bisogno di una sua attiva partecipazione Un ragazzo di 28 anni benestante appassionato di auto Ultimo domicilio conosciuto Elizabeth New Jersey A due passi da New York È il profilo di Hamad Khan Rahmi Il 28enne di origini afghane arrestato ieri con l'accusa di tentato omicidio Questa volta la caccia all'uomo è stata breve Anche perché la fuga è stata goffa Hamad è stato visto mezzo addormentato in un bar di Linden Sempre nel New Jersey Quando è arrivata la polizia Il giovane ha aperto il fuoco Due agenti leggermente feriti Lui colpito a una spalla e una gamba Per il momento Hamad non avrebbe intenzione di collaborare Per gli inquirenti è stato lui a piazzare le due bombe a Chelsea Una delle quali ha ferito 29 persone Il ragazzo di origine afghane ma con passaporto statunitense Sarebbe responsabile anche per gli altri ordigni Disseminati nel New Jersey Le sue impronte sono state trovate sulla pentola a pressione Che non è esplosa a Manhattan E sul cellulare che doveva servire ad attivarla Accanto avrebbe lasciato un biglietto In cui cita l'attacco alla maratona di Boston Ufficialmente è agito da solo Ma la polizia non è del tutto convinta E le indagini proseguono Per scoprire complici o fiancheggiatori Da definire il collegamento con i cinque arrestati sul ponte di Verrazzano Andavano all'aeroporto JFK Su un SUV carico di armi Quella di Hamad sembra essere la figura tipica del terrorista invisibile Fino a che non entri in azione Il giovane sarebbe cambiato dopo un viaggio in Afghanistan E un soggiorno in Pakistan Dove ha sposato una donna locale Non cederemo alla paura L'America non si arrenderà Annuncia il presidente Obama Che viene attaccato da Trump Con lui e la Clinton Il terrorismo ha prosperato Non ha un piano È la sua retorica Ad aiutare i terroristi Replica La candidata democratica Andiamo in Siria Dove vi dicevamo Già ieri era sostanzialmente terminata La tregua Durata meno di una settimana A questo punto E nella provincia di Aleppo Infatti sono ripresi i bombardamenti E un raid Purtroppo ha centrato Un convoglio umanitario Erano 18 camion Proprio nel momento in cui Questo convoglio si era fermato E venivano scaricati gli aiuti 12 operatori dell'ONU Sono rimasti per l'appunto Uccisi in questo bombardamento La fine della tregua Era stata annunciata Dal governo siriano La decisione era stata sostenuta Anche dalla Russia Che fra l'altro Aveva denunciato Il mancato rispetto Dello stop All'ostilità Da parte dei ribelli Anti-Assad Intanto oggi comunque Si riunirà Il consiglio di sicurezza Dell'ONU E a proposito di ONU Invece a New York Come sapete Si apre l'assemblea generale Dell'ONU Si sta parlando di Immigrazione Proprio in queste ore Ed è intervenuto Il segretario generale Ban Ki-moon Ma ha parlato anche Matteo Renzi I migranti non sono un peso Ma un grande potenziale Le parole di Ban Ki-moon In apertura del summit Sui rifugiati Che in una New York blindata Ha preceduto L'annuale assemblea Delle Nazioni Unite Non possono non stridere Con l'attuale caos politico Sul tema In Europa soprattutto E certo La dichiarazione di intenti Con cui si è chiuso il vertice Non è un risultato esaltante Una serie di principi E impegni Da parte degli stati Costituirà la base Per arrivare alla firma Di un Global Compact Entro il 2018 Un trattato Che indichi Come affrontare La crisi migratoria Forse non si poteva Chiedere di più In quella sede Mentre chi vuole Molto di più Da Bruxelles Dai vertici Dell'Unione Europea E Matteo Renzi Che da New York Non ha certo usato Giri di parole Per mettere a nudo L'incapacità Delle istituzioni europee Di fronteggiare La questione dei migranti Dall'Europa vogliamo fatti Se non arrivano Faremo da soli Ha detto il Presidente del Consiglio Che guidava la delegazione Italiana composta Tra gli altri Dai Ministri degli Esteri Paolo Gentiloni E dell'interno Angelino Alfano Juncker dice Tante cose belle Ma non vediamo i fatti Ha aggiunto Renzi Che ha spiegato Come per l'Italia La priorità sia I rapporti con l'Africa E che il problema Non è l'immediato Ma la strategia Per i prossimi anni O si interviene Per tempo in Africa Oppure l'Europa Non è in grado Di gestire il fenomeno Il Summit A cui hanno partecipato Oltre 150 Tra capi di Stato E di governo I Ministri degli Esteri Ha anticipato Di 24 ore E la conferenza Voluta sempre All'ONU Dal Presidente degli Stati Uniti Barack Obama Per un gruppo Più ristretto di paesi Quelli che Come l'Italia Hanno migliorato I loro impegni Di accoglienza O di assistenza umanitaria Una riunione Che dovrebbe portare A delle scelte più concrete In attesa di capire Cosa accadrà Sul fronte europeo Anche dopo La nuova batosta elettorale Subita da Angela Merkel A Berlino Con gli elettori tedeschi Che hanno di fatto Bocciato la politica Di apertura verso i profughi Della cancelliera A poco più di un anno Dalle elezioni politiche In Germania Ieri a New York Il Presidente del Consiglio Renzi Ha ricevuto Un premio Le Global Citizen Award E A consegnaglielo È stato Il Segretario di Stato Eccolo vedete John Kerry Che ha detto L'Italia Va nella giusta direzione E in quell'occasione Matteo Renzi Ha commentato La notizia Che la consulta Ha deciso Di posticipare La sentenza Sull'Italicum Dicendo Il referendum Costituzionale Non riguarda La legge elettorale E considero Questo fatto Molto positivo Perché ora Possiamo discutere Nel merito Della riduzione Dei parlamentari Del superamento Del bicameralismo Perfetto Dell'abolizione Dei cnele E dei poteri Delle regioni Sull'Italicum La Corte Costituzionale Rinvia Senza attendere L'udienza Già precedentemente Fissata Per il 4 ottobre E lo fa Con 15 giorni Di anticipo La decisione Di posticipare La discussione Sulla legge elettorale Molto probabilmente Slitterà A metà gennaio Del 2017 Ed è stata assunta Dal presidente Della consulta Paolo Grossi Dopo aver sentito Il collegio dei giudici Nel corso Della prima riunione Dopo la pausa estiva La scelta È il frutto Di una larga condivisione La Corte Costituzionale Dovrà decidere Sulle questioni Di legittimità Sollevate dai tribunali Di Messina E di Torino Quanto è successo ieri Comunque arriva Nel bel mezzo Del dibattito Attorno al prossimo Referendum Sulla riforma costituzionale Con la quale La legge elettorale È fortemente intrecciata Anche per questo Probabilmente La consulta Che ha sempre escluso Sentenze Che possano interferire Con consultazioni elettorali Imminenti Ha scelto La strada Del rinvio Tanto più Che anche Il tribunale Di Perugia Ha nel frattempo Sollevato Una questione Sull'italicum E anche questa Deve essere valutata Cade definitivamente Quindi Lo scenario Di una sentenza Della corte costituzionale Nel pieno della campagna Per il referendum E che avrebbe potuto Influenzare l'esito Imponendo O meno Una modifica Per via legislativa La legge elettorale Se il comitato Per il no Preferisce Non commentare E si limita A prenderne atto Per forza Italia Si tratta Di un enorme Gigantesco favore A Matteo Renzi Evitandogli Una clamorosa bocciatura Dai dissidenti Del Nazareno Invece Arrivano consensi Perché Spiegano Ora il premio Non ha più alibi E se vuole Veramente cambiare L'italicum Prima del referendum Ha l'occasione Il tempo Per farlo L'NCD Invece indica Il prossimo dibattito Che si aprirà In aula Sulle mozioni Sulla legge elettorale Come l'occasione Per apportare Modifiche Alla normativa Siamo pronti Alle modifiche Aspettiamo Le proposte Delle opposizioni Ripadesce Il ministro C'è stata un'altra scossa Di terremoto Questa notte Abbastanza forte In provincia Di Rieti La magnitud Era 4,1 Era all'1,34 Di questa notte E si è sentita Molto ovviamente Anche ad Accumoli Amatrice Ad Arquata del Tronto Tra l'altro Visto che Vi diamo questa notizia Ne approfittiamo Anche per ricordarvi La nostra Sottoscrizione Come sapete Eccola qua Le donazioni Possono essere effettuate Anche con la carta di credito Sulla piattaforma www.unaiutosubito.org Se no Potete fare Un bonifico bancario A Banca Intesa San Paolo O ancora Un bonifico bancario A Banca Prossima Sempre con la causale Un aiuto subito Terremoto In centro Italia Invece adesso Noi parliamo di lavoro Ieri L'Inps Ha diffuso dati Non particolarmente Incoraggianti Perché è uno strumento Che doveva servire Per Diciamo così Pagare un lavoro Davvero saltuario Come quello appunto Dei voucher Invece Sembra che venga Utilizzato Al posto Di altri contratti Che quindi Inevitabilmente Calano Non arrivano Buone notizie Dal mondo Del lavoro La fonte Questa volta È l'Inps Il campo di osservazione I lavoratori dipendenti Del settore privato Una decina di giorni fa Era stato il ministero A certificare Un calo Delle assunzioni E un aumento Dei licenziamenti Nel secondo Trimestre 2016 Ieri è stato invece Il turno Dell'Istituto Di Previdenza Dare dei numeri Riferiti questa volta Ai primi sette mesi Dell'anno E che dunque Proprio per questo Esprimono tendenze Ancor più consolidate A cominciare Dalla certificazione Del progressivo Esaurimento Della spinta propulsiva Degli sgravi Contributivi Per i neoassunti Con contratti A tutte le crescenti Sgravi Significativamente ridotti Quest'anno Una riduzione Che si è tradotta In un crollo Del 33,7% Delle assunzioni Con contratti stabili Rispetto ai primi Sette mesi Del 2015 Ce ne sono state Cioè quasi 380.000 in meno Anche le trasformazioni A tempo indeterminato Di rapporti a termine Sono diminuite Di oltre il 36% Dati che comunque Si inseriscono In un trend Complessivamente Discendente dal momento Che in generale Le attivazioni Sono diminuite Del 10% Il saldo Assunzioni Cessazioni Rimane positivo Per circa 804.000 unità Ma solo per 76.000 Considerando esclusivamente I rapporti di lavoro stabili Molto meno positivo Però rispetto Allo scorso anno Con gli incentivi A pieno regime Tuttavia Il dato in assoluto Più allarmante Consiste forse Nell'inarrestabile Boom dei voucher Ne sono stati venduti Oltre 84 milioni Con un aumento Del 36,2% Rispetto ai primi Sette mesi Del 2015 Ed è il dato Più allarmante Perché quei voucher Destinati in teoria Al pagamento Del lavoro accessorio Rappresentano ormai La vera Nuova frontiera Del lavoro precario Parliamo ancora di lavoro Ma in questo caso Del lavoro Che purtroppo A volte Uccide È successo all'ilva Del nastro In quale vengono Non ha funzionato Il giovane Un passo intrappolato Tra il nastro Michele Emiliano Apre la quinta giornata Il resto Turnover Sampdoria Fra i bianconeri Domenica Ottenuto il suo primo Storico punto In serie A E allora Sono le 7.49 Il momento per noi Di fermarci E salutarvi Dare la linea A Paolo Sottocorona Che torna Con le previsioni Del tempo Poi a Gaia Tortora Alla conduzione Di Omnibus Ci vediamo se volete Domani mattina Buona giornata